Questa è tua? Sì. Questa è mia. Meglio di vincere una volta. Anche se tu vede così, no? Ma vai. Bene, da tanto non l'abbiamo fatto. Questa è la corda. Questa è la corda. Questa è la corda. Ah sì, piede, dietro. Di apposare. No. Questa è la corda. Questa è la corda. Abbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pieda. Pieda guarda, non si mette per scivolare. 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 non ho potuto fare questa presa ma come era? tipo il fatto è appuggiato l'osso dietro io avevo così ma l'obiettivo è da fare in me no, 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 così no, 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 difficile l'obiettivo è così eccoci qui piegare piegare è difficile di fare è duro, duro ok, facciamo un po' no, facciamo un po' a 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 per essere molto più facile devi tirarmi di qua e così è molto più facile a 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